E' arrivato l'ok dal tribunale per la cessione dell'US Avellino. Tra il 6 e il 19 novembre la data importante diventa il 14 novembre, quando appunto è arrivato il via libera alla cessione del club. Cessione che potrebbe essere quindi vicinissima, con due cordate in corsa e altre che potrebbero aggiungersi nelle prossime ore, qualora lo volessero. In corsa c'è ancora Happy Green, anche se al momento sembra essersi leggermente defilata, mentre la Fabrizio Holding pare aver ritirato la propria offerta. In corsa c'è più che mai anche quella rappresentata da Luigi Izzo, imprenditore di Montesarchio, insieme a Nicola Di Matteo e Nicola Circelli, che sarebbero gli altri due soci. Insieme a loro approderebbe ad Avellino anche Aniello Martone, ex direttore sportivo della Casa Ertana, che diverrebbe così il direttore generale bianco-verde, senza voler spodestare la figura di Salvatore di Somma nel ruolo di attuale DS. L'offerta di questa cordata si aggira attorno al 1.300.000 euro e le prossime ore la diranno lunga sul futuro dell'US Avellino, che potrebbe dunque essere ceduto, liberando così i tifosi irpini da un'agonia che dura ormai da troppo tempo. Targata Sidigas.